L'esplosione in una casa nella mattinata di giovedì 7 marzo intorno alle 11.30 in via Principa Medeo a Cascine di Romano. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Ivrea, Autoscala Centrale, Torino Stura, NBCR, Carofiamma e Niat. Oltre all'ambulanza e il soccorso del 118 e il nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Rimasto ferito un uomo, classe 1945, che dopo le prime cure è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino. Portato in ambulanza al pronto soccorso anche il fratello, il leso, per controlli. L'esplosione potrebbe essere stata causata da una bombola del gas, ma sono in corso gli accertamenti. Sul posto anche le squadre cinofile specializzate per le ricerche in caso di crollo. 33? Mosto? Vi vedete. Si che non poteva più. Li convince pretty. Grazie a tutti